Comunque come avevo pronunciato prima vi avrei dato un bel consiglio fantastico su come non tradirvi perché io spesso vedo coppie che veramente sono disposte a rinunciare al sentimento per qualche voglia fisica e questa cosa non riesco a comprendere Udite maschietti ma soprattutto femminucce il segreto per farsi andare via le voglie fisiche non è restare fermi agonizzanti così dire oh mio dio mi trattengo dal tradire mio partner masturbatevi avete un mondo intorno a voi ha detto quella parola sì non mi vergogno di parlare di queste cose in tal proposito volevo mostrarvi un sito dove sto facendo shopping adesso oh sì si chiama my secret case e vende di tutto per tutti avete pure delle sezioni dedicate alle domande per chi ha delle perplessità e per chi avesse delle perplessità poi avete le sezioni tipo i preferite alle coppie dagli uomini dalle donne tutte le informazioni centinaia di prodotti di tutti i tipi insomma io non voglio sentirvi dire ma la masturbazione è sempre la stessa no no avete un mondo qua un mondo che scommetto nessuno di voi ha esplorato veramente ragazzi oh mio dio che bello io penso che prenderò questo sì assolutamente continuo lo shopping anzi diamo perché già mi sa che oh mio dio quanti soldi baby ehm Grazie.